Trasmettere i valori di un prodotto o di un marchio è un'operazione molto complessa e lo diventa ancora di più quando si deve parlare di automobili dove i fattori e le variabili da considerare sono davvero molte. Per questo diventa ancora più interessante quanto realizzato da Peugeot Italia che ha deciso di costruire direttamente un'auto, un esemplare unico, un'interpretazione esclusiva di quello che è il modello di punta del leone cioè la 508 RX-H nei suoi valori di stile, tecnologia e rispetto ambientale. Da queste basi nasce l'incontro con la carrozzeria Castagna, specialisti capaci di rendere irripetibile qualsiasi vettura in grado di eseguire un lavoro di alto artigianato con perizia e passione. Uno dei pilastri fondamentali della strategia Peugeot è la crescita nella gamma. Crescita nella gamma Peugeot passa anche attraverso la realizzazione di esemplari unici. 508 RX-H è una vettura che come sapete è il primo ibrido diesel al mondo, un motore termico montato all'anteriore, un motore elettrico, esprime molto bene i valori del rispetto della natura e della mobilità sostenibile ed è per questo che tutta la ricerca stilistica e quella che poi anche la ricerca ambientale è voluto andare in questa direzione. Del progetto 508 RX-H Castagna se ne è occupato in prima persona il chief designer dell'atelier Joachino Acampora che ha coinvolto diverse aziende. Ma l'originalità la si trova nella carrozzeria dove è stato realizzato qualcosa di più di un nuovo colore, una speciale vernice a cui ben si addice il nome di Mimesi che cambia con l'intensità della luce. Il risultato del nostro lavoro è una vettura fuori serie come vuole la tradizione castagna, quindi non un prototipo da salone, non una show car, ma una vettura perfettamente funzionante in ogni sua singola applicazione. Questo risultato ci ha impegnato per circa 1200 ore, gran parte del lavoro è stato svolto digitalizzando la vettura e ricostruendone ogni pezzo matematicamente. E poi abbiamo fatto una grossa ricerca con l'Ecre a Cantara per quelli che sono i colori e i materiali. Non è previsto una produzione e la collaborazione darà presto altri frutti. Si sta già lavorando a una Peugeot 2008 castagna.